Lo stanno facendo? È la loro risposta a ogni cosa. Chissà, forse a parlare si annoiano. Cosa? L'auto. Wow. A questo pensi nel mezzo del nostro momento? Aspetta, aspetta, aspetta. Devo dirti una cosa. Cosa? Cosa c'è? Chiedimi qualcosa, Archie. Chiedimi tutto quello che vuoi. Non dovremmo farlo. No, non dovremmo. Senti. Senti. Magari volevi compagnia. No, non dovremmo farlo. Chiedimi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.